Buongiorno, sono Patrick e oggi volevo raccontare uno dei tre momenti di questo periodo emergente che ho spento tra i bambini di scuola, la scuola e una piccola attività fisica per mantenere i piedi. Oggi volevo raccontare il riempimento di scuola sezionale. Come la legge dice, dal 15 novembre al 15 aprile, i bambini devono avere scuola di scuola o di scuola di scuola. In effetti per questo video vorrei cambiare i bambini di scuola con i bambini di scuola di scuola per mostrare cosa faccio nel mio tempo spesso durante questa emergenza. Prima di cominciare il riempimento, la scuola deve essere posizionata nei bambini di scuola e poi la scuola deve essere posizionata in un'altra parte. Dopo il riempimento, come vediamo, abbiamo un'altra parte di scuola con le bambini di scuola per mantenere la scuola in casa. Dopo il riempimento, come vediamo, abbiamo una cittura di scuola con le bambini di scuola per prendere le bambini di scuola. Le bambini devono essere posizioni perché le bambini di scuola in questa macchina variano dal vintero al bambini di scuola. Ora evo le bambini di scuola con una gunna pneumatica. Dopo aver riempito le bambini di scuola, abbiamo ingriffo sulle bambini di scuola con un plastica. Quale bambina è? In questo caso è una bambina di fronte-left. in questo caso, quando hai riempito le bambini di scuola con le bambini di scuola con le bambini di scuola. Dopo la disassemblamento, la bambina di scuola è assemblata con le bambini di scuola. per assicurare che sia ben sbagliato. Per questo, usiamo una bambina pneumatica. e poi, la bambina di scuola è un'altra bambina di scuola. Dopo aver guardato questa procedura, la bambina di scuola sarà sempre usata per riempire gli altri. Questo è uno dei hobby che faccio durante il mio tempo gratis. At home, in tis emergency. In addiction to physical exercise and studying. See you later and stay at home. In questo caso, la bambina di scuola è un'altra bambina di scuola con le bambina di scuola con le bambina di scuola. titulare la humanAllah cecola è un'altra bambina di scuola con le bambina di scuola.